buongiorno e bentrovati al flash con chi scusi mi fa vedere un attimo il cartello segnaletico l'acquaglieri latania buongiorno ma che ci fa lei qui bordo bordo vasca bordo spiaggia dove si trova innanzitutto dove si trova a ostia il polo natatorium e cosa ha intenzione di fare qui siamo in preparazione per il mondiale junior dopo l'euro junior lei mi va al mondiale junior che è un po un vialito insomma non esageriamo a indianapolis diamo tutte le coordinate della tania quaglieri a indianapolis che fa 50 e 100 d'orso sicuro sicuro spero e le due staffette miste a quindi porterà un enorme contributo alla nazionale beh direi di sì come si sente in forma quaglieri beh mi sta allenando tanto veramente già sto mettendo tutta vado la e vado su vado giù vado lei no vabbè cerco di dare il meglio di me e poi quello che viene fuori va bene è stata una lunga stagione finita ma com'è che sta in maglietta scusi non sta non mi sta in costume esigenze di sponsor no no ma no ma ci mancherebbe lei da dove arriva scusi quelli modena le modenese regno della velocità vogliamo andare veloce anche dorso ci proviamo mi dica così un challenge un'idea di tempo di prestazione lo so che è difficile no beh ma non è una questione difficile non mi piace non mi piacciono queste cose quindi semplicemente io vado la do tutto perché comunque 80 grinta e tanta voglia di fare quindi ce la metto tutta e poi speriamo cioè anzi sono convinta che qualcosa di buono può venire fuori anche perché io l'aspetto dall'altra parte nel famoso salotto acquatico noi qui siamo un po al flash no la vediamo l'acqua e magari c'è quello rompi scatole di che sono io che le farò qualche domandina un po più pepatina beh si fa volentieri e d'accordo col salotto acquatico di swim bees certamente e quindi alla prossima e speriamo in bene tanti saluti dagli stati uniti no ciao ciao quando è che partite il 20 e iniziano alle gare le 23 fino al 28 quindi guardateci tutti siamo indiana napoli se forse italia ovvio sempre ciao